Mi trovo a Gerace, un bellissimo borgo medievale che si trova veramente a 10 chilometri dal mare. È una bellissima vista e troverete questo video delle immagini riguardanti proprio questa cittadina. Ricordatevi di seguirmi qui su YouTube, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Facebook, di commentare. Ci vediamo alla prossima, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!